Questa mattina insieme a Stella Nello Sport abbiamo incontrato i ragazzi dell'ICVoltri1. È stato un bellissimo incontro, nonostante io collabori già da diverso tempo con Stella Nello Sport e siamo abituati a incontrare ragazzi di persona. Invece questo è stato un incontro virtuale, ma nonostante ciò i ragazzi sono stati molto molto attivi, con tantissime domande anche in chat durante l'incontro. Abbiamo affrontato diversi temi, hanno fatto tantissime domande riguardo la mia vita personale, la mia carriera. Abbiamo toccato il tema sempre molto importante della sicurezza stradale, quindi che la strada non è una pista e che la prudenza non è mai troppa e quindi bisogna affrontare le strade con il giustabigliamento tecnico per evitare gli infortuni e i vari incidenti. Quest'anno io dovrei essere impegnato nel Mondiale Endurance e nel National Trophy 1000. In realtà per via di questa emergenza siamo fermi, non abbiamo ancora iniziato la stagione, stiamo aspettando le varie comunicazioni in modo che ci dicano cosa dobbiamo fare quando la stagione effettivamente inizierà. Siamo pronti, comunque io mi sto allenando a casa e non vedo l'ora di iniziare. Colgo l'occasione per ringraziare la preside, i professori che hanno fatto sì che questo incontro si svolgesse. Saluto i ragazzi ancora, ci siamo divertiti. Spero la prossima volta di incontrarli di persona in modo che l'incontro sia ancora più empatico e ci divertiamo insieme. Ciao a tutti!